Per difendere Papa Clemente VII dall'assalto dei Lanzichenecchi il 6 maggio 1527, durante il Sacco di Roma, morirono 147 guardie svizzere. Un tragico fatto storico, ricordato da Francesco alle nuove reclute del corpo militare, incontrate in occasione del giuramento in programma domenica prossima, 4 ottobre, in luogo della data tradizionale, il 6 maggio, spostata per l'emergenza Covid-19. La memoria di quell'evento possa evocare in voi il pericolo di un saccheggio spirituale. Nell'attuale contesto sociale molti giovani corrono il rischio di farsi spogliare l'anima quando seguono ideali e stili di vita che rispondono solo a desideri o bisogni materiali. La cerimonia del giuramento si svolgerà in forma strettamente privata nel cortile di San Damaso. Le 38 nuove reclute presteranno giuramento sulla bandiera del corpo, promettendo lealtà eterna a Papa Francesco e ai suoi legittimi successori. Il giuramento che farete dopo domani sia anche un'attestazione di fedeltà alla vostra vocazione vatessimale, cioè a Cristo.